Un commento sull'attuale situazione politica a Battipaglia? La risposta si legge nell'articolo oggi, nelle dichiarazioni del Vice Sindaco Ugo Tozzi, veramente senza parole, perché pensavo che in questi due anni ci fosse stata un'ampia collaborazione e soprattutto una sincerità nei rapporti. Io colgo l'occasione per salutare gli assessori che hanno veramente lavorato tanto e qui sono grata che Michele Gioia, la dottoressa, l'avvocato Laura Toriello e l'avvocato Napoli che veramente hanno dato un ottimo lavoro. Io voglio solo ricordare che in politica le situazioni non sono mai definitive, abbiamo rispettato i patti perché già lo scorso anno è noto a tutti la questione dei pattisti che già all'epoca chiedevano un azzeramento dell'Aggiunta e questo Sindaco ha retto per rispettare un patto, un patto che si era poi rotto, ufficializzato, con la nomina dell'avvocato Napoli che subentrava a Onnembo. E quindi da quel momento in poi ci eravamo impegnati che a metà mandato avevo resistito a questi attacchi esterni degli altri consiglieri dicendo che le giunte si sarebbero riviste a metà mandato e lì avremmo fatto una valutazione. Quindi ci eravamo avviati, sono due o tre giorni che si parlava di avviare questo discorso che non doveva essere così traumatico ma doveva essere accompagnato per dopo all'estate e trovare il modo come uscirsene perché ci sono anche delle forze politiche che hanno contribuito alla vittoria di questo Sindaco, di questa amministrazione che giustamente hanno anche loro rivendicato una rappresentanza politica che non è spartenza come qualcuno vuole far passare. Probabilmente voglio dire perché all'inizio ci accusano di spartenza quando facciamo il patto nobile, adesso ci accusano di spartenza, assolutamente no ma è semplicemente rispettare le persone che hanno contribuito alla vittoria. Non avevamo detto no, avevamo detto rivisitiamo, scegli tu le persone, sono quattro assessori con un consigliere comunale, decidiamo chi rimane e chi ufficialmente non è più assessore ma che rimarrà nella organizzazione di questa amministrazione perché avremmo recuperato e quando io dico una cosa è quella e lo possono dire gli assessori che ho nominato che mi ero impegnata comunque a trovare un modo di contratto, una collaborazione con i due assessori che non sarebbero rimasti più nella combagine di assessore. Questa scelta di uscire all'improvviso fuori francamente voglio dire mi è parsa un po' scorretta anche perché ieri dovevamo fare un'aggiunta anche un'aggiunta urgente, abbiamo detto facciamo l'aggiunta, poi parliamo, discutiamo l'aggiunta non ho detto facciamola dopo, quindi voglio dire probabilmente si è venuto con l'intento di fare questo passaggio brutale. Non solo, quando mi si dice che il gruppo Tozzi non esiste più perché si sono annientati, annullati dietro l'amministrazione francese che avevano accettato l'amministrazione francese e basta, beh io dico che il gruppo Tozzi esiste lo dimostra che in blocco tu revochi quattro assessori, li obblighi alla dimissione e ovviamente obblighi anche il tuo consigliere comunale a passare all'opposizione quindi complimenti perché dimostra che c'è un gruppo solido, un gruppo che voglio dire compatto e quindi questa è la dimostrazione che non è vero, che noi l'avevamo annullato. Probabilmente lo dice lui, lui è in campagna elettorale ma mi era stata avvisata questa cosa io sembro abbonista, una parte le voglio dar ragione, che forse non ho il polso duro per poter prendere, forse avrei dovuto prendere delle decisioni prima e ascoltare gli altri consiglieri comunali che mi sono stati fedeli ma io vedo sempre il lato buono delle persone, per cui quando mi si dice ti lascerà a prima occasione per andare in campagna elettorale e quando sai che il sindaco francese vuole ricandidarsi per gli altri 5 anni beh prendo nota, ma scusate io faccio queste affermazioni semplicemente perché vedo che stamane c'è un articolo virgolettato, parole sue confermate anche dai suoi assessori che ha detto queste parole so anche che c'è stata una discussione tra di loro prendo atto, mi dispiace, mi dispiace soprattutto per quegli assessori che hanno lavorato, veramente so, da cui mi ha veramente il mio grazie il mio è quello di tutta l'amministrazione e colgo l'occasione per ringraziare tutti gli altri consiglieri di maggioranza i 15 che mi sono stati vicino ieri c'erano tutti nell'inaugurazione del campetto mai successo, ma erano tutti presenti perché era quello di stare insieme al sindaco e quindi io ringrazio veramente gli assessori i consiglieri perché non me l'aspettavo ma erano presenti tutte e tutte le forze anche che a volte salta questi incontri ma che mi volevano dare la garanzia che loro ci sono La nuova squadra di governo sarà pronta per fine mese? Ma guardi, il fatto stesso che noi non abbiamo dei nomi ancora sta a dimostrare che appunto non è una questione di città devi mettere quello perché noi non abbiamo nomi per cui quello che sanno, la mia intenzione è quella che sarà ogni forza politica che ha partecipato alle elezioni mi darà una rosa di nomi non mi danno i nomi secchi, ho sempre fatto così mi daranno una rosa di nomi e il sindaco sceglie e sanno che mi devono dare una rosa di nomi di persone competenti o comunque di persone fidabili lo farà il gruppo Etica, lo farà con Cecilia lo farà Forza Italia lo faranno quelle persone insomma basta, queste sono le quattro forze che noi abbiamo in consiglio comunale e ci sono dei consiglieri che si sono dichiarati autonomi insomma vediamo di far gruppo quindi 15 secondo me è il numero ideale mi dispiace per gli altri ma 15 è il numero leale, non ci sta oggi noi abbiamo anche il problema ora 5 assessori non avevamo in mente di avere queste figure anche lì mi lasci con una giunta da fare è segno veramente di non riconoscenza e soprattutto di non riconoscenza nei confronti della città noi abbiamo Dalli Libera per la festa della speranza che aspetta di essere passata in giunta perché le persone che devono venire con occupare il loro spazio pubblico devono entro il 24, devono presentare domanda e c'è la delibera che sta ancora lì e come avevamo una delibera per il pacco ho invitato i dirigenti purtroppo non sarà possibile modificarla perché non abbiamo la giunta per farla useremo la vecchia planimetria e quello sarà non è colpa nostra insomma io mi scuso però questa è anche una mancanza di poca serietà soprattutto non nei confronti di Cecilia Francese ma nei confronti dei commercianti nei confronti di Battipari nei confronti delle scuole di dinanzi io devo ringraziare comunque i dirigenti che faranno una determina partendo dalle vecchie delibere tempi di varo della nuova giunta? abbiamo l'esigenza di farla presto per cui io mercoledì incontrerò inizio a incontrare i gruppi politici stasera incontro il mio gruppo politico mi dovranno dare come detto una rosa di nomi e vediamo un attimino saranno anche un po' ridistribuite meglio le cariche assessoriali non così rigide insomma le cambieremo un po' però questi a breve sicuramente sei assessori entro una settimana dovranno essere nominati grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.